Eh ma poca, poca roba. Ma ti scendeva giù tante? Certo, ce ne erano quattro qua. Una, due, tre, quattro. E' una cinque. Ma da dove scende l'acqua? Da la montagna. Ma è la neve che si scioglie o com'è la neve che si scioglie? Non ci viste nell'ultimo minuto, però. 10 litri, 300 anni fa. E anche se lì è quello imbottito. Non ci va neanche persone. Non ci vediamo, ci vediamoci al posto. Ma ci vediamo ancora qua. Ma ci vediamo ancora qua. Dove è la torino. Quello è... Che potrà andare da dentro lì? Tutti qua. Grazie a tutti.